bentornati bentornati sul sul canale buon inizio di settimana a tutti a tutti voi avevo promesso un approfondimento sulla real sociedad prossima avversaria dell'inter debutto nel gruppo di dopo domani sera ore 21 a san sebastiano nei paesi baschi per i nerazzurri vice campioni d'europa ieri l'alsusad battuta 2 a 1 al bernabéu in rimonta ma prestazione molto molto convincente e devo dire che si presentano in forma e anche piuttosto convinti al merce con l'inter ma ve l'ho promesso e quindi quell'approfondimento ve lo faremo ce l'ho pronto tanto quindi vediamo se oggi o domani prima però volevo un attimo tornare sul derby per credo per chiudere definitivamente questo capitolo la scia lunga del derby si trascina anche chiaramente il lunedì oggi peraltro termina la giornata di campionato con le ultime due sfide e vi preannuncio una rubrica che riguarderà la serie a ogni giornata ove possibile ma di solito riesco a essere puntuale con gli appuntamenti le tre porcherie della giornata no e questa e questa ne ha già regalate diverse quindi dovrò dovrò scremare perché sono ben più di tre le porcherie del quarto turno di campionato e in generale in campo quello che si dice eccetera eccetera voglio tornare un attimo sul derby e raccontarvi quella che è la più grossa balla che si sta raccontando in queste ore circa il confronto inter milan ormai sappiamo tutti lo sanno tutti l'inter ha vinto 5 a 1 ed è stato il quinto derby consecutivo vinto dall'inter di inzaghi contro il milan di pioli e ne abbiamo sentite tantissime molte delle quali quasi con l'obiettivo nemmeno tanto celato di voler sottrarre merito alla formazione nera azzurra e quando dico formazione nera azzurra dico giocatori allenatore e tutto quello che c'è sopra perché perché anche con dopo un 5 a 1 in un derby io ho dovuto ascoltare esimi opinionisti parlare di milan che si è concesso all'inter milan che tatticamente si è fatto autogol milan che non stava benissimo insomma tutta una serie di giustificazioni come se i meriti dell'inter ci fossero ma fossero relativi ed è qualcosa che non è particolarmente nuovo nel repertorio dei trattori dei colori nera azzurri ci ricordiamo nell'ultima giornata prima della sosta inter fiorentina e ma la fiorentina la stank e ma per come gioca la fiorentina è l'avversario più facile per l'inter che si consegna giocando offensivamente ricordo la finale di champions league sì sì l'inter sare giocata è però il city era stanco già con lo united nella finale di fk sette giorni prima aveva dato segnali di di stanchezza non era al top e invece l'inter ci arrivava al top per questo poi il risultato è stato deciso la partita da un episodio poteva anche vincere l'inter ma solo per questo perché poi si dia dei mostri l'inter invece qua 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 col benfica benfica che prima della partita è il grande benfica ancora imbattuto ovunque ma il squadra che gioca il miglior calcio in europa meglio anche del napoli poi la fine enzo fernandez ceduto a gennaio all'andata mancava votamenti squalificato gioco mario si è rivelato per quello che è gonzalo ramos è ancora acerbo raffa silva deluso e ancora l'indietro indietro c'è sempre una una scusa un qualcosa per andare a dire sì però sì ma senza voler tornare per forza su arrico sacchi che anche stamattina non ci ha deluso parlando di inter modesta e di fatto speculativa è stata lì a speculare senza voler tornare su un pio su pioli ma io mi soffermo invece che poi pioli oggi nelle nelle interviste nelle conferenze prima di emilia newcastle che ci sarà domani qualche modo è un po tornato indietro no prima aveva fatto molto l'arrogante nel post partita del derby oggi le sue parole sono state un po diverse no però voglio soffermarmi sugli analisti quelli che guardano e parlano di calcio da esterni quindi presumibilmente con maggior distacco emotivo con più raziocinio no qualche contenuto io ho sentito dire e ridire e dire ancora che l'inter vince i derby sempre allo stesso modo parte che non ci sarebbe nulla di male ma non è vero questa è la più grande balla ascoltata dopo quella di sacchi e l'inter gioca a difesa e contropiede l'inter ha vinto i suoi derby anzi più che vinto ha giocato i derby anche quelli persi o pareggiati in vari in vari modi con vari atteggiamenti all'interno della stessa partita leggendo il momento in maniera differente e provandosi ad adeguare all'avversario alla situazione le caratteristiche le estemporaneità per una partita di calcio ti propone quello di leggere il momento che infatti è stato un qualcosa che ha sottolineato anche stamattina pioli nell'intervista che ha fatto a sky la lettura dei momenti è una delle peculiarità che secondo me sono più sono importanti in una squadra di calcio perché c'è un momento in cui puoi affondare ma c'è anche un momento in cui devi difendere o devi comunque stazionare in maniera intelligente l'inter ha fatto possesso fatto azioni di rimessa ha fatto transizioni veloci ha fatto ha congelato il pallone è andata ad essere pericola sugli esterni e in bucate centrali calci d'angolo tiri da fuori non c'è stato un modo in cui in questa era in zaghi versus era pioli l'inter non non abbia colpito non sia riuscito a colpire il milano quindi penso che una delle più grosse balla più grossa balla che si sta raccontando è questo l'inter gioca i derby e vince i derby la stessa maniera falsissimo falsissimo ma io posso al limite anche comprendere seppur non condividere ma comprendere un'analisi così parziale da un tesserato che magari parla conscio di dire falsità ma l'obiettivo non è raccontare la verità di un tesserato è evidentemente raggiungere e parlare in funzione del proprio risultato quindi se serve una bugia dicono bugie io vado a chiedere conto a chi a chi da esterno parla commenta analizza entra nel contenuto proporre questo questo contenuto a chi gioca perché è veramente un qualcosa di raccapricciante l'inter ha comandato il gioco e ha saputo chiudere ha saputo ripartire ha tenuto il bari centro alto o ha ha tenuto il bari centro basso cioè il 12 gol a 1 al di là delle vittorie non sono 12 episodi a un episodio è la logica conseguenza di una differenza sostanziale che si è vista in campo negli scontri diretti questo non vuol dire in assoluto non stiamo facendo la scala dei valori non sto dicendo in assoluto perché poi ad esempio anche due anni fa se noi valutiamo le prestazioni tra il derby d'andata e il derby di ritorno l'inter ha anche lì ha comandato in largo e lungo come comandò il milan con il liverpool nella famosissima finale di istanbul blackout di sei minuti va ai rigori perdi perché questo è il calcio ma il milano comandò 84 minuti quella partita come poi liverpool comandò possiamo dire 90 minuti ad atene perse e il calcio però non basta solo andare a vedere il risultato quello che dico io ad esempio nell'ultimo derby non è vero che c'è stata una sola squadra in campo non è questo lo possiamo dire del derby di ritorno dell'anno passato 1 a 0 risicato ma l'inter ha schiacciato totalmente il milan cui l'inter è stato più forte del milan di un milan comunque in salute il milan sarebbe giocata la partita commesso degli errori questo senza dubbio senza dubbio l'inter è stata migliore senza dubbio ma non è stata una partita tra una squadra al top e una squadra in crisi che ha sbagliato tutto che non è entrata in campo che non ha saputo reagire no milana sarebbe giocata la partita arrivava in fiducia ha provato a mettere in campo le proprie armi l'inter ha piegato la resistenza del milan con intelligenza sagacia tattica lettura sia collettiva che individuale e non è un qualcosa da da sottovalutare ha vinto 5 a 1 quindi ancor più merito va dato all'inter ancor più merito va in zaghi ancora una volta ha messo nel sacco pioli e pioli piuttosto che fare il saputello il risentito e quello che gli vuola la mosca sul naso forse bel bagno di umiltà ma io sono sono sicuro che poi all'interno delle quattro mura di milanello abbia capito come è andata non so se ha capito come andrà perché lì ogni volta poi va sempre in un modo stiamo vedendo però non credo che sia quello soprattutto chi da esterno provi a guardare meglio provi a osservare meglio provi a raccontare la verità a chi ascolta quantomeno perché allo stadio per quelli che continuano a parlare di inter sempre uguale che vince sempre uguale che questi inter qui forse sono quelli che restano a casa e guardano i derby dalla stessa televisione di Enrico Sacchi e saluto